ciao a tutti mi chiamo giulia vengo da palermo vi volevo ringraziare prima di tutto perché ci avete dato un'opportunità bellissima per approfondire un po il tema e per dare anche spazio per dire grazie per quello che fate che avete fatto soprattutto in questo periodo che è stato molto un periodo molto particolare per tutti con le mie tre proposte volevo approfondire il fatto e volevo porre l'attenzione sul fatto che per esempio ogni istante prezioso quindi ogni istante è importante per salvare una vita è importante perché comunque ci siete vicini e ci potete dare aiuto inoltre è importante anche cambiare il modo con cui noi guardiamo un po la guardiamo un po le persone e se noi osserviamo meglio con occhi nuovi possiamo anche scoprire un qualcosa di più qualcosa di nuovo che effettivamente forse non abbiamo mai notato prima d'ora perché possiamo anche scoprire il fatto che vicino a noi ma anche noi stessi possiamo essere degli eroi perché dentro di noi c'è questo ero questo eroismo questa vena appunto che può essere fondamentale si dimostrata fondamentale oggi quindi ancora una volta grazie grazie per tutto e continuate così